Vasco Rossi, noto anche semplicemente come Vasco, o in passato con l'appellativo Blasco, è un cantautore italiano. Autodefinito si provoca autore, è considerato uno dei maggiori esponenti della musica rock italiana. Caro Cicciu scrive Vasco su Instagram mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore. Uiva Andrea Giacobazzi, colpa d'Alfredo. Andrea sottolinea Vasco è sempre stato dalla mia parte, anche quando molti mi voltavano le spalle. Facevano finta di non conoscermi. Non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo. A Modena. Mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva, dice Vasco. Per poi concludere, last but not least, lui è stato tra i primi ad avere la visione di quello che poi è diventato Modena Park. Il mega concerto dei record tenuto da Vasco nel 2017, è aperto proprio da colpa d'Alfredo. Addio a uno dei principali personaggi dell'universo Vasco Rossi. È morto all'età di 66 anni Andrea Giacobazzi. L'uomo che ha ispirato il celebre brano colpa d'Alfredo. Canzone che, non a caso, nel 2017 ha aperto il concerto dei record. Modena Park. A dare la notizia è lo stesso Vasco sui social.